Nel giorno di San Valentino Un'inaugurazione in grande stile per il nuovo showroom del mobilificio Campani Con mobili di grande qualità, di ottima fattura e di grande gusto Sono quelle aziende che sono nate in un periodo del nostro paese In cui grazie anche alla genialità dell'artigiano, alla passione Così hanno messo su quel mondo delle piccole e medie imprese Che di fatto insomma comunque rappresenta lo scheletro del nostro paese L'ossatura del nostro paese E quindi è un'azienda che ha saputo rinnovarsi Di mantenersi competitiva grazie poi appunto alla intelligenza La capacità di essere sempre al passo Come mi spiegavano appunto i fratelli Campani Adesso poi ci sono le nuove generazioni che hanno appreso il know-how E quindi ecco questo è un segnale importante per il nostro territorio Ma anche un esempio diciamo di sana imprenditorialità Con l'aiuto di tutta la famiglia unita e delle nostre risorse Cercando di rimetterci sempre in gioco Abbiamo cercato di dare questo nuovo impulso Che crediamo sia di buon auspicio E ci possa portare dei risultati come tutti ci auguriamo I nostri mobili sono mobili artigianali Sono mobili di legno Sono mobili veri Non è il mobile così inventato o improvvisato Qui c'è veramente la qualità Qui c'è veramente la qualità